Benvenuti a Radio Pugginio NER, cari ascoltatori, ci arrivano degli aggiornamenti importanti dal centro Italia, una situazione da monitorare, una scossa di 2.5 ha colpito poco fa la città di Spoleto, ma non è la sola scossa, infatti una serie di scosse di minore intensità stanno tuttora seguendo questa scossa. In una scossa di 2.5 ce ne sono state altre di minore intensità anche nelle ore precedenti e una in particolare 2.2. Scosse di lieve intensità, percepite soprattutto quest'ultima 2.5 in modo lieve dalla popolazione, ma sappiamo che questa area è soggetta a terremoti ben più grandi. Il fatto che non sia un terremoto isolato, ma ci sia in atto un vero e proprio sciame sismico che si è intensificato soprattutto nelle ultime tre ore, merita la nostra attenzione. Dunque una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 si è verificata precisamente alle ore 15.42 del 30 giugno, oggi 30 giugno 2024, con epicentro localizzato nei pressi di Spoleto, Perugia, nella regione Umbria. Il sisma si è verificato ad una profondità nel sottosuolo, l'ipocentro, di 10,1 chilometri. Abbiamo visto in questi ultimi giorni che c'è una differenza fra terremoti, per esempio, di origine vulcanica come quelli ai campi Flegrei, dove invece la distanza, la profondità nel sottosuolo, dunque l'ipocentro dei terremoti, avviene in modo molto più superficiale rispetto ai terremoti tettonici e ai terremoti, per esempio, del centro Italia. Questo per dire che sì, terremoti molto più profondi, dunque molto meno vicini al suolo, che la popolazione avverte molto di meno, ma nello stesso tempo sappiamo che nel centro Italia è possibile che si verifichino terremoti molto, ma molto più grandi, di una magnitudo molto più grande rispetto a quelli, per esempio, dei campi Flegrei e del centro Italia. In base alle prime informazioni, la scossa è stata avvertita lievemente dalla popolazione, in particolar modo nella zona epicentrale, ma senza causare alcun danno. I valori di magnitudo, epicentro e ipocentro rappresentano una prima stima, con i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Eventuali nuove analisi potrebbero far variare solo leggermente tali stime, che in genere sono più o meno precise. Dunque, come abbiamo detto, tre ore fa, alle ore 13 e 26 minuti, c'è stata una prima scossa un po' più importante, di 2.2, magnitudo 2.2. e poi c'erano state delle scosse più lievi, tre scosse più lievi nelle ore precedenti. Poi, successivamente, la scossa 2.5, circa un'ora fa, alle 15.42, seguita nei minuti successivi, alle 15.46, da una scossa 1.5, un minuto dopo un'altra scossa 1.5, circa un'ora fa, alle 16.03, un'altra scossa di 1.1. Dunque, sembra esserci in atto un vero e proprio sciame sismico, probabilmente una piccola faia, probabilmente nei pressi di Spoleto, in quella zona che si è rotta, che in qualche modo sta facendo il lavoro che fa una faia, quello di scatenare terremoti nel momento in cui si accumula energia. Speriamo che queste scosse non siano preliminari a scosse più grandi, a un sisma più intenso, ma siano degli, tra virgolette, un episodio isolato, ma essendo tante scosse che si succedono, comunque è un sisma, scusate, un sisma per il momento di lieve intensità. Noi monitoreremo la situazione, vi terremo aggiornati nelle prossime ore. Grazie per averci seguito, al prossimo episodio di Radio Pugginionaire.